Innanzi ai giudici il caso Stein & Stein 1, vicenda delicata per la quale vennero indagati gli ex vertici della SEL, società energetica della provincia di Bolzano, accusati di aver agito contro gli interessi della società per cui lavoravano per trarne benefici economici. Nello specifico avrebbero indotto la stessa SEL a rinunciare nel 2006 all'acquisto della centrale di Mezzaselva, poi acquisita dalla società Stein & Stein, nella quale gli allora alti dirigenti di SEL avevano interessi personali. In aula era presente l'ex direttore generale della SEL, Maximilian Reiner, ma anche e soprattutto in qualità di teste, Petra Wint, sua ex compagna di studi. Entrambi hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere. La donna che risiede a Vienna la presta nome al centro dell'operazione che portò la società Stein & Stein Italia ad acquisire la centrale di Mezzaselva, un'audizione considerata molto importante. La manager austriaca ha dichiarato di non aver mai agito per conto di altri nell'operazione. Decise, così ha sostenuto oggi in aula, di acquistare la centrale sulla base di informazioni, inizialmente fornitele da Maximilian Reiner. Petra Wint ha inoltre affermato di aver gestito in prima persona la vendita delle quote della Stein & Stein, sia quelle cedute a Rudolf Stoker, che ha sostenuto, ignorava fosse il fratello dell'allora presidente di SEL, Klaus Stoker, sia quelle vendute alla EFAOB di Peter Kofler e di non aver mai saputo che dietro la stessa EFAOB si celasse Franz Pirscher, all'epoca presidente del collegio sindacale di SEL. Rispetto ad alcune affermazioni della testa, il procuratore Guido Rispoli ha annunciato in aula di voler valutare l'ipotesi di procedere nei suoi confronti per falsa testimonianza.